e bella a tutti ragazze bentornati in un nuovo video sono francesco col ea ea lecco oggi faremo un video di clash royale e andiamo raga e raga oggi come vedete no da oggi hanno fatto una nuova ventola sfida oro raga andiamo a tornare a molti soldi tengo ragazzi ragazzi si sono pure io antico ant non c'è e vabbè come si si come vedete oggi è uscita una nuova calza però non l'ho trovata ancora perché è uscita non mi ricordo raga aspettate se volete fare un video scaricate live live che sarebbe questo è un bel gioco raga però dovete aspettare per fare le partite io sono in napoli anche e l'atalanta tra due giorni sbloccherò la nuova squadra spagnola raga tra sette ore giocherò contro i bologni raga vi faccio vedere il replay della partita io contro il benevento inizia guardate raga ma non sto giocando muo però guardate raga che recupero ho fatto insegnato poi il mio io sono in napoli poi segnato questo me l'infortunato giorgini poi se risegna e raga vedete qui e che recupero che mu fa il napoli io muo farò una bella recupera raga guardare vedete e giorgini ha segnato vedete raga questo cosa qua dentro raga capito raga è finita e vi avete visto andiamo a metterlo a posto a posto raga capito questo questo è che è e raga e raga ma andremo a fare il clasher scusate raga salvatore salvatore è uno fratello lo vogliamo mettere nello scatolino ma no che vuoi vedere eh salvatore tieni no metti io le metti io la faccio il clasher ah lei è la tua peppa chiudi chiudi eh raga eh raga scusate siamo ancora in live si raga come vi dite raga raga ora andremo a fare non so aspetta aspettate un bel deck andremo a fare aspettate questo va bene va bene raga ma cosa ho fatto non sbaglio volevo fare un'altra cosa vabbè raga ora abbiamo fatto la sfida ora anche qui tu la faresti questa sfida è l'iniziatra non lo sapevi anche qui è scemo no le andre in cu si chiama ok le andro veramente si chiama le andro non è vero sto scherzando si chiama come si chiama angelo ecco qua è vero angelo vieni qua va bene raga ci hanno fatto la torre ecco qua eh raga ci hanno fatto la torre che devo fare però voglio provare a difendermi raga di provarci e raga è mia zia è mia zia capito raga e raga guardate dopo si no domani faremo un nuovo video cioè dopo domani non lo so o dopo o domani dopo vai dopo faremo un video di dream league social anche se non tengo più giocatori forti non tengo ronardo non tengo più nessuno a casa anche se non si o o o o o o o o Grazie. L'abbiamo perso, raga. 25, 4, poi. Sono tornato in arena, raga. Non posso sbloccare più la fuorilegge. Però posso sbloccare altre leggendare, raga, però ci cerco, non so cosa fare. Raga, se facciamo la partita... Non c'è mai vero chiudo. Nikon. Nikon. Bu. Questo teno molto leggendario, questo amico mio. Nikon. Raga, non so che è sto Nikon. Ehi, raga, mamma mia, guardate, guardate la scintilla cosa fa. Eh, però qua ci dovremmo difendere. Eh, raga. Raga, però questo non difende, mamma mia. Ma sono... Bravo, questo idiota. Bravo, idiota di merda. Che cazzo 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 cazzo. Oh, eh, quello butto il minatore... Ma che te ne lo butto? Boh, minatore del lavoro. Che cacchio serve il minatore del lavoro? Che cazzo 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 cazzo. Eh, no, non ti devi stare ferma, allora. Vap. Raga, forse è vinto. mamma mia che lo metti a fare ma quando è un scemo che sta bene raga si si pensa solo ad attaccare raga sto scemo raga scusate ma questo non difende cacchio madonna amica grazie sto scemo non si difende proprio grazie 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 ho fatto una costella così qua mamma mia appena è cominciata non c'è una a zero ero una a una vabbè frago mamma mia che sta fatta la coppa e mattillica la coppa e mattillica oggi non è avuta una era una cosa era ma voglio che sta vinta Superboy Superboy Ha già vinto Vabbè raga Ora passiamo Raga Spero che vi sia piaciuto Questo video Mettete tanti pollici in su Like e iscrivetevi Al mio canale E bella raga